amici di italiano per tutti benvenuti a questa nuova lezione innanzitutto prima di iniziare la lezione voglio ricordarvi e farvi notare che se seguite se ci seguite su facebook abbiamo stiamo riorganizzando tutti i video su facebook per categoria e soprattutto troverete la notizia che abbiamo aperto o abbiamo aperto un podcast cioè potete ascoltarmi sul podcast e trovate l'indirizzo web anche sotto a questa a questa lezione nella descrizione ma anche su facebook se ci seguite trovate l'indirizzo dove seguire tutti i podcast che saranno abbastanza frequenti cercherò cercheremo possibilmente di farne una settimana o anche più non sono molto lunghi sono brevi ma sapete che i podcast sono più comodi perché potete tenervi il podcast sul cellulare mentre andate al lavoro mentre andate a spasso mentre siete al vostro anche nel lavoro potete ascoltarmi e sentire le notizie sull'italia e sulla sulla cultura italiana e tante altre cose ok iniziamo questa lezione che è quasi 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 un seguito della lezione su bernini perché fa anche rima questa lezione è dedicata a borromini borromini il rivale di bernini perché dico che è quasi un seguito perché continuiamo a parlare un po di bernini parlando in realtà di quello che era il suo rivale quasi è stato quasi un collaboratore ma rivale e vediamo la sua storia la storia di borromini affiancata a quella di bernini due personaggi molto importanti due artisti molto importanti italiani che hanno ovviamente lasciato una grossa impronta una grossa bagaglio culturale storico soprattutto ovviamente nella città di roma e questo si sa perché abbiamo già visto bernini in una lezione precedente allora andiamo a scoprire chi era borromini e qui abbiamo sempre la solita prima slide che è molto importante perché racconta tutto lo spirito della cultura italiana per conoscere davvero l'italia e la cultura italiana non si può fare a meno di conoscere l'arte italiana fin dai tempi più antichi l'italia è stata un centro culturale di grande importanza e nel corso della storia dato vita ad artisti eccezionali che hanno creato opere d'arte indimenticabili italiano per tutti ci accompagna in un viaggio nell'arte italiana alla scoperta delle opere più conosciute il rivale di bernini francesco borromini francesco castelli in arte francesco borromini nacque nel 1599 a bissone sul lago di lugano praticamente in svizzera diciamo e morì a roma nel 1667 quindi è morto a 68 anni nella storia dell'arte questo architetto è noto per la sua rivalità per i suoi conflitti quindi con un altro artista di epoca barocca gian lorenzo bernini che noi conosciamo già vedremo che questa rivalità aveva una base di verità e che anche i loro stili erano per alcuni aspetti all'opposto ecco un'immagine che ritrae borromini ed ecco un'immagine identica a quella che abbiamo già presentato per bernini che ritrae un'opera di borromini adesso scoprirete perché dopo aver lavorato a milano come apprendista borromini si trasferì a roma qui nel 1629 si trovò a lavorare come assistente di bernini nella realizzazione del baldacchino di san pietro quindi abbiamo la stessa foto semplicemente perché hanno lavorato insieme e hanno fatto lo stesso la stessa opera cioè il baldacchino di san pietro che come ho già detto ovviamente non possiamo mostrare tutte le foto in una lezione ma andate a cercare su su internet oppure andate a roma a guardare in diretta e dal vivo il baldacchino di san pietro perché è un'opera eccezionale all'interno ovviamente della della basilica di san pietro anche se tra i due se fra i due c'era all'inizio una buona collaborazione presto nacquero dei contrasti che poi si svilupparono in una vera e propria rivalità entrambi questi artisti diedero però un contributo fondamentale alla bellezza architettonica di roma dopo alcuni anni borromini iniziò a lavorare autonomamente come architetto quindi si è staccato da bernini era capace da lavorare da solo e si è messo a lavorare come architetto tra i due lavori scusate tra i suoi primi lavori ci fu la progettazione della chiesa e convento di san carlo alle quattro fontane borromini era un esponente dell'arte barocca proprio come bernini tuttavia le sue opere hanno delle caratteristiche stilistiche molto diverse da quelle dell'avversario qui abbiamo un'immagine della scala elicoidale di palazzo barberini opera di borromini a roma palazzo barberini e questa la scala elicoidale borromini preferiva l'uso del colore bianco mentre bernini utilizzava contrasti cromatici ad esempio con l'uso di marmi di diversi colori poi borromini usava materiali poveri per le sue realizzazioni come il mattone l'intonaco lo stucco mentre bernini borromini usava materiali preziosi come il marmo il bronzo e l'oro c'è da dire che borromini prima di arrivare a roma aveva lavorato in dei monasteri con dei monaci che non avevano così tanti fondi per poter diciamo potersi poter realizzare delle opere in oro o in marmo in bronzo quindi dovevano lavorare lo facevano lavorare con materiali poveri e quindi lui si è abituato fin da giovane a lavorare con intonaco stucco e mattone e questo creava il contrasto e in qualche modo anche la rivalità perché ovviamente la differenza di metodi di lavorazione e materiali utilizzati ha creato anche il contrasto fra questi due artisti. Infine borromini trovandosi per lo più a progettare edifici per piccoli spazi usava linee ondulate linee a spirale e forme geometriche per rendere le sue opere visivamente più leggere e slanciate al contrario le opere di bernini erano tipiche per le forme imponenti e monumentali nel 1642 borromini progettò la chiesa di santilvo alla sapienza ritenuta il suo capolavoro la caratteristica più innovativa di questo edificio era la cupola a spirale e questo è un dettaglio della cupola di santilvo nel 1644 con papa innocenzo decimo borromini entrò nei favori della corte papale mentre bernini favorito dal papa precedente cadde in disgrazia ovviamente i due papi avevano forti rivalità fra loro quindi quello successivo cioè innocenzo decimo invece di tenersi nella corte bernini ha scelto borromini e quindi bernini che fino a quel momento aveva lavorato molto e si è trovato senza lavoro e invece borromini si è trovato con molto lavoro da svolgere cadde in disgrazia bernini in quegli anni cadde in disgrazia in questi anni borromini rinnovò la basilica di san giovanni in laterano e il palazzo di propaganda fide e concluse i lavori della chiesa di sant'agnese in piazza navona eccola qua la chiesa di sant'agnese in piazza navona e c'è un aneddoto da raccontare riguardo alla chiesa e alla piazza perché come vedete questa qui è la la fontana dei quattro fiumi di bernini allora è la fontana dei quattro fiumi di bernini la scultura è che ovviamente è la rappresentazione scultoria di un fiume cioè del nilo che guarda che è rivolta verso la chiesa di sant'agnese che vedete nella foto quindi quella scultura il nilo è bendato e si diceva quel tempo che bernini avesse voluto bendare la statua il nilo che rappresentava il nilo per non vedere l'obrobrio per vedere quella 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 chiesa che era stata in realtà realizzata dal rivale e cioè da borromini in realtà poi si è scoperto o comunque si ritiene che il nilo la statua rappresentante il nilo era bendata semplicemente perché a quel tempo non avevano ancora scoperto le sorgenti del nilo che erano i laghi vittoria e perché ovviamente erano ancora da scoprire e quindi la statua era stata da bernini ben data personalmente non so se è vera una severa l'altra comunque sappiate che questo è un piccolo aneddoto legato alla piazza navona che vedete qui nella foto con la chiesa di sant'agnese e con la fontana dei quattro fiumi fu di nuovo un papa quindi passarono gli anni borromini lavoro molto in quel periodo ma fu di nuovo un papa a decidere le sorti dei due artisti quindi morto innocenzo decimo papa alessandro settimo ha scelto di nuovo bernini quindi ve la leggo vi dico che fu di nuovo un papa a decidere le sorti dei due artisti nel 1655 il nuovo papa alessandro settimo scelse di nuovo bernini come architetto preferito della corte papale borromini caduto in depressione si ammalò e nel 1667 si tolse la vita quindi triste fine per un artista così grande e però purtroppo c'è da dire che nelle situazioni in cui si erano ovviamente un artista di quel calibro concentrava tutta la sua vita sui grossi guadagni e quando i grossi guadagni poi non c'erano più bisogna essere sarebbe dovuto aspettare un altro papa sostanzialmente però poi a un certo punto poi si è anche ammalato quindi è stata è stata difficile poter recuperare e riprendere ovviamente la sua positività la sua la sua vivacità e espressività artistica che aveva bene amici questa era la lezione su borromini che era il rivale di bernini andatevi a seguire la la lezione su bernini se non ve la ricordate ve la vado a linkare qui e cosa dire d'altro come sempre vi chiedo un like un seguimi siamo su tutti i social e anzi ripeto siamo su facebook in particolare ma cercheremo di diffondere la voce un po su tutti i social siamo su facebook perché come dicevo all'inizio stiamo riorganizzando tutti i video per categoria ci trovate anche sul sul nuovo podcast di cui vedete il link qui sotto nella descrizione del video e ovviamente anche su facebook e cosa dire d'altro itapertutti punto blog spot è sempre il nostro blog trovate tutti i video e tutta la descrizione tutti i dettagliati anche come come modalità di ricerca ci sono 215 video prima di questo lo dico sempre è l'unica cosa che posso ancora dire è che vi saluto e ci vediamo nella prossima lezione di italiano per tutti ciao ciao